Nel 2019 ricorre il settantesimo anniversario della marca Abarth, è stato quindi un anno davvero pieno di impegni. Abbiamo lanciato la gamma settantesimo anniversario sia sul 595 che sul 124, abbiamo poi portato a Ginevra la nuova 595 SS, abbiamo avuto il reveal della 695 settantesimo anniversario e poi gli Abarth Days appena conclusi a Milano in cui ci sono venuti a trovare più di 5.000 amici da tutta Europa per festeggiare insieme. Questo di oggi è sicuramente l'evento più emozionante, infatti il Comune di Torino ha deciso di intitolare al nostro fondatore una strada, Via Carlo Abarth, che dimostra quanto sia forte il legame tra la città di Torino e la nostra storia. La 695 settantesimo anniversario è una serie speciale con sole 1.949 unità dedicata a collezionisti e appassionati. Si caratterizza per lo spoiler posteriore che ci riporta un po' indietro nel tempo. Era il 1962 quando Carlo Abarth letteralmente inventa in pista un alettone posteriore per migliorare la performance della sua auto. Il nostro spoiler migliora il carico aerodinamico di quasi 50 kg e migliora le performance della vettura soprattutto alle alte velocità. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.